Capitolo 5 Erano passati quasi sei mesi tra il momento dell'arresto a giugno e l'assurda decisione del Presidente della Corte Suprema, il quale affermava che avevamo comunque commesso una violazione del diritto di petizione, nonostante godessimo di quel diritto in quanto sudditi. Nell'intervallo alcuni gravi sviluppi avevano innalzato il movimento militante su un piano più alto ed eroico. Si ricorderà che una settimana prima che la nostra delegazione mettesse alla prova la legge di Carlo II, la signorina Wallace Dunlop era stata condannata a un mese di carcere per aver impresso un estratto del Bill of Rights su muri della St. Stephen's Hall. Nel giorno del suo arrivo a Holloway, la sera di venerdì 2 luglio, mandò a chiamare il direttore e gli disse che pretendeva di essere trattata come un'imputata politica. Il direttore replicò che non aveva alcun potere di alterare la sentenza emessa dal magistrato, al che la Serena Wallace Dunlop lo informò che le suffragette avevano stabilito in modo definitivo che non si sarebbero mai più sottoposte al trattamento detentivo riservato ai comuni trasgressori della legge. Pertanto, se fosse stata rinchiusa nella seconda divisione come una criminale comune, si sarebbe rifiutata di toccare cibo fino a quando il governo non avesse ceduto su quel punto. È assai improbabile che il governo e le autorità carcerarie compresero la serietà del gesto della signorina Wallace Dunlop o il temperamento eroico delle suffragette. In ogni caso, il segretario di Stato non diede importanza alla lettera inviatali dalla prigioniera, in cui spiegava semplicemente, ma in modo chiaro, i motivi di suo disperato gesto, e le autorità del carcere non fecero nulla se non tentare in qualche modo di rompere le sue resistenze. L'abituale dieta del carcere fu sostituita dalle pietanze più allettanti e il cibo, anziché esserle servito a intervalli, le veniva portato notte e giorno, ma restava sempre intatto. Diverse volte al giorno il medico le andava a controllare il battito e a constatare il suo crescente infiacchimento. Il dottore, così come il direttore alle secondine, discuteva e la minacciava e cercava di convincerla, ma senza risultato. La settimana passò senza alcun segnale di resa da parte della prigioniera. Il venerdì il medico stilò un rapporto, secondo cui la detenuta stava rapidamente giungendo a un punto in cui la morte sarebbe potuta sopraggiungere da momento all'altro. Si tenero in tutta fretta dei colloqui tra la prigione e gli affari interni e quella sera, l'8 giugno, la signorina Wallace Dallop fu rinviata a casa, dopo aver scontato un quarto della pena e dopo aver ignorato completamente le norme della sua detenzione. Il giorno del suo rilascio, le 14 donne accusate di aver rotto le finestre ricevettero le loro sentenze e, avendo saputo del gesto della signorina Wallace Dallop, mentre venivano portate a Holloway col frugone del carcere, si consultarono e decisero tutti insieme di seguire il suo esempio. Giunte a Holloway informarono una per volta gli agenti che non avrebbero ceduto i propri effetti personali, che non avrebbero indossato gli abiti della prigione, che non avrebbero fatto i lavori della prigione, che non avrebbero mangiato il cibo della prigione e che non avrebbero rispettato la regola del silenzio. Il direttore ha consentito per il momento a permettere loro di tenere i propri effetti e indossare i propri abiti, ma disse loro che avevano commesso un atto di ammutinamento e che avrebbe dovuto riferirlo alla prossima visita dei magistrati. Le donne inviarono allora delle petizioni al segretario di Stato, chiedendo di ricevere il trattamento detentivo universalmente riconosciuto ai prigionieri politici. Decisero di rimandare allo sciopero della fame fino a quando il segretario di Stato non avesse replicato. Intanto, dopo un vano appello perché fosse rinfrescata l'aria, dato che la calura era davvero soffocante, le donne compirono un ulteriore atto di ammutinamento sfasciando le finestre delle loro celle. Lo venimo a sapere dalle stesse detenute. Alcuni giorni dopo che erano entrate in carcere, mia figlia Christabel e la signora Tuck, in ansia per il loro destino, riuscirono ad accedere al piano alto di un edificio che affacciava sulla prigione. Chiamando a voce alta e sventolando la bandiera della WSPU, attirarono l'attenzione delle prigioniere. Le donne tesero le braccia attraverso i vetri rotti, agitando fazzoletti, spille con la scritta voto alle donne. Qualsiasi cosa riuscissero a procurarsi e in poche parole urlate raccontarono la loro storia. Quello stesso giorno arrivarono in visita i magistrati e le ammutinate furono condannate a pene dai 7 ai 10 giorni di isolamento in celle di punizione. In queste spaventose celle, buie, sporche e fradici di umidità, le detenute fecero lo sciopero della fame con la massima fermezza. Al termine dei 5 giorni, una delle donne era ridotta in condizioni tali che il segretario di Stato ne ordinò la liberazione. Il giorno dopo ne furono rilasciate diverse altre e prima della fine della settimana le ultime delle 14 donne avevano riconquistato la libertà. La vicenda suscitò un'ondata di compassione in tutta l'Inghilterra, compassione che il signor Gladstone cercò di sviare accusando due delle prigioniere di aver preso a calci e ammorsi le secondine. Malgrado la loro vigorosa smentita, in base a queste accuse, le due donne furono condannate una a 10 giorni e l'altra a mese di carcere. Sebbene fossero ancora deboli per il primo sciopero, attuarono subito un secondo sciopero della fame e nel giro di tre giorni dovettero essere rilasciate. Dopo tutto questo, ogni nuovo gruppo di suffragette detenute, se non diversamente indirizzate, seguì l'esempio delle eroiche ribelli. I funzionari del carcere, vedendo svanire la propria autorità, furono presi dal panico. Holloway e altre prigioni femminili sparse in tutto il regno divennero teatro di violenza e brutalità. Quello che segue è il racconto di Lucy Burns e della propria esperienza. Restammo immobili quando ci ordinarono di spogliarci e quando ci dissero di andare in cella, unimo le nostre braccia e ci mettemo con la schiena al muro. Il governatore soffiò nel suo fischietto e una gran folla di secondine comparva all'istante. Si scagliò su di noi, ci separò e ci trascinò nelle celle. Penso che mi ritrovai addosso dodici carceriere e tutti insieme riuscirono a sgambettarmi tanto da farmi cadere a terra senza poter reagire. Una delle secondine mi afferò per i capelli, si arrotolò la treccia al polso e mi trascinò letteralmente sul pavimento. Una volta in cella mi strapparono i vestiti da dietro, mi misero a forza un camice di cotone ruvido e gettarono il resto sul letto, lasciando che me lo infilassi da sola. Una volta sola, esausta per l'orribile esperienza, rimasi sul pavimento a tremare, respirando a fatica. Dopo un po' una secondina venne nella mia cella e mi gettò una coperta. Mi ci accorsi dentro perché il freddo mi era arrivato alle ossa. Il camice di cotone grezzo e la rubida coperta sono tutto ciò che indossai per l'intera durata della mia detenzione. Molte delle prigioniere rifiutarono tutto, eccetto la coperta. Come d'accordo tra noi, sfasciamo tutte le finestre e fumo immediatamente trasferite in celle di punizione. Lì facciamo lo sciopero della fame e dopo aver resistito ad ogni supplizio per quasi una settimana, fumo rilasciate una dopo l'altra. Con quanta semplicità lo dicono, dopo aver resistito ad ogni supplizio. Ma chi non ha mai fatto la tremenda esperienza dello sciopero della fame? Non può avere idea di quanto grande sia quel supplizio. In una normale cella è già grande abbastanza. Nell'indicibile squallore delle celle di punizione è ancora peggio. Gli spasmi della fame durano al massimo 24 ore per la maggior parte delle detenute. Io di solito soffrivo di più il secondo giorno. Passato quel momento non si sente più un bisogno disperato di cibo. La debolezza e la depressione prendono il suo posto. Forti disturbi nella digestione devono il desiderio del cibo a quello di trovare il sollievo dal dolore. Sia spesso un intenso mal di testa accompagnato da vertigini o da un leggero delirio. La totale spossatezza e un senso di isolamento della terra segnano la fase culminante del calvario. Spesso il recupero lungo e il pieno ritorno alle normali condizioni di salute è talvolta lento in modo sconfortante. Il primo sciopero della fame fu attuato all'inizio di luglio. Nei due mesi che seguirono decine di donne adottarono la medesima forma di protesta contro un governo che non voleva riconoscere la natura politica dei loro reati. In alcuni casi le scioperanti furono trattate con una crudeltà senza precedenti. Fragili donne furono condannate non solo all'isolamento ma a portarle manette per 24 ore alla volta. Una donna che si era rifiutata ad indossare i vestiti della prigione fu chiusa in una camicia di forza. L'ironia di tutto questo appare ancora più evidente se si considera che in quello stesso periodo i leader del Partito Liberale e la Camera dei Comuni erano nel pieno della loro campagna contro il potere di veto dei lord. Il 17 settembre si tenne una grande assemblea a Birmingham, occasione nella quale il signor Esquit si preparava a gettare la sua sfida ai lord e ad annunciare che il loro diritto di veto stava per essere abolito, mantenendo sovrana la volontà del popolo in Inghilterra. Ovviamente le soffragette colsero questa opportunità per indire una manifestazione. Era un percorso perfettamente logico. Negato il diritto di petizione, ormai escluse da ogni riunione del Consiglio dei Ministri, le donne erano costrette a sfruttare qualsiasi mezzo a loro disposizione per portare la propria causa l'attenzione del governo. La signora Mary Leight e un gruppo di associati di Birmingham avvertirono il pubblico di non partecipare all'assemblea di Esquit, perché si sarebbero verificati sicuramente degli scontri. Dal momento in cui il primo ministro e il suo gabinetto partirono dalla Camera dei Comuni, fino a quando il treno li fece scendere alla stazione di Birmingham, furono completamente circondati da ispettori e poliziotti. Le precauzioni prese per proteggere Esquit non sono mai state eguagliate, se non nel caso dello Zar allo scopo della Rivoluzione Russa. Dalla stazione fu condotta attraverso un passaggio sotterraneo a 500 metri dal suo albergo, dove c'erano da solo dopo essere stato portato in camera con un montacariche per i bagagli. Scortato alla Bingley Hall da un utrito schieramento di polizia a cavallo, era talmente spaventato all'idea di incontrare le suffragette che entrò da una porta laterale. La sale e la portetta come per un assedio. Sul tetto di vetro era stato steso un grosso telone. Alte scale erano state posizionate da ogni lato dell'edificio e vari estintori erano pronti all'uso. Non per spegnere il fuoco, ma per respingere le suffragette nel caso in cui fossero apparse da qualche punto inaccessibile sopra il tetto. Le strade erano barriccate da ogni parte e la polizia a reggimenti era schierata per difendere i blocchi dalle cariche delle donne. A nessuno era consentito oltrepassare le barricate senza mostrare il biglietto d'ingresso a lunghe file di poliziotti e che aveva il biglietto veniva premuto nelle porte strette uno per volta. Le loro precauzioni furono inutili perché le tenaci suffragette trovarono più di un barco per trasformare il trionfo di Esquiti in un fiasco. Anche se nessuna donna riuscì a conquistare l'accesso alla sala erano presenti tanti uomini simpatizzanti della causa e nelle primi fasi della riunione 13 uomini furono buttati fuori violentemente per aver ricordato al primo ministro che il popolo, i cui diritti si vantava di volere amministrare e sostenere, includeva le donne tanto quanto gli uomini. Di fuori, mescolate alla vasta folla, bande di donne assaltarono le barricate. I blocchi più esterni vennero sfondati a dispetto della migliaia di poliziotti schierati. La signora Leith e Charlotte Marsh strapparono decine di pezzi di Ardesia dal tetto di una casa vicina e li lanciarono sul tetto della Bingley Hall e nelle strade sottostanti, stando comunque attenta a non colpire nessuno. Quando il signor Esquit scappò via in macchina, le donne scagliarono l'Ardesia contro l'autovettura blindata. La macchinetta fu tirata fuori e i pompieri ricevettero l'ordine di indirizzare l'acqua sulle donne. Si rifiutarono, va detto a loro credito, ma la polizia, infuriata per la propria incapacità a mantenere l'ordine, non si fece scrupolo di sparare l'acqua fredda sulle donne, che stavano accovacciate e aggrappate alle pericolose pendenze del tetto. Alcuni teppisti gettarono dei mattoni contro di loro, ferendole a sangue. Alla fine le donne furono buttate giù dalla polizia e con i loro vestiti gocciolanti marciarono per le vie verso la stazione di polizia. Le soffragette che avevano assaltato le barricate e lanciato pietre al treno in partenza del signor Esquit furono condannate a reclusioni che andavano da due settimane a un mese, ma la signorina Marsh e la signora Leith furono mandati in carcere rispettivamente per tre quattro mesi. Tutte le prigioniere fecero lo sciopero della fame come ci aspettavamo. Diversi giorni più tardi fumo sconvolte nel leggere sui giornali che queste detenute erano state nutrite con la forza, tramite un tubo di gomma cacciato nello stomaco. Membri dell'Unione fecero subito richiesta sia alla prigione sia agli affari interni per conoscere la verità sul rapporto, ma fu negato ogni tipo di informazione. Il lunedì seguente, su nostra richiesta, che era RD durante il question time alla Camera, insistè per aver chiarimenti dal governo. Il signor Messerman, parlando a nome del segretario di Stato, ammise malvolentieri che al fine di preservare la dignità del governo e al cotempo per salvare la vita delle detenute, era stata effettuata una terapia ospedaliera. Terapia ospedaliera era l'espressione usata per sviare l'attenzione da uno degli espedienti più brutali e disgustosi a cui ricorrevano le autorità carcerarie. Nessuna legge consentiva quelle pratiche, se non per soggetti certificati come malati di mente e anche nel caso in cui l'operazione fosse eseguita da infermieri qualificati sotto la direzione di personale medico qualificato, non si potrebbe definire sicura. Di fatto, i casi da manicomio solitamente muoiono poco dopo. The Lancet, forse la più autorevole rivista medica in inglese, pubblicò un lungo elenco di opinioni di illustri signori, medici e chirurghi che condannavano la pratica usata sulle detenute suffragiste come un atto indegno per un paese civilizzato. Un dottore raccontò un caso che aveva tenuto sotto osservazione in cui la morte era sopravvenuta quasi all'istante nel momento in cui era stato inserito il tubo. Un altro citò il caso in cui la sua lingua, deviata dal tubo di alimentazione, era stata quasi staccata a morsi dal soggetto che tentava di divincolarsi. Si conoscevano anche casi in cui il cibo era stato iniettato direttamente nei polmoni. Il signor Cimentel Mulin, dottore in medicina, fellow of the Royal College of Surgeons, scrisse sul Times che in qualità di chirurgo d'ospedale, con più di 30 anni di esperienza, desiderava protestare con indignazione contro l'espressione del governo terapia ospedaliera usata in relazione all'alimentazione forzata delle donne. Era una ributtante calunnia, dichiarò, perché in ospedale non c'è posto per la violenza e la brutalità. Una memoria firmata da 116 famosi dottori fu indirizzata al primo ministro per protestare contro la pratica dell'alimentazione forzata e per evidenziare nel dettaglio i gravi rischi che comportava. E questo è quanto sull'impegno dei medici contro una forma di brutalità che continuava, e ancora continua, nelle nostre carceri inglesi, come punizione per le donne detenute per obiezioni di coscienza. Quanto alla testimonianza delle vittime, lo scenario che emerge è dei più rivoltanti. La signora Leight, la prima vittima, è una donna di robusta costituzione, altrimenti non sarebbe forse riuscita a sopravvivere all'esperienza. Rinchiusa nel carcere di Birmingham, dopo la dimostrazione contro Esquit aveva rotto la finestra della sua cella e per punizione fu gettati in una cella punitiva buia e gelida. Le sue mani restavano ammanettate dietro la schiena durante il giorno e di notte sul davanti con i palmi all'infuori. Si rifiutava di toccare il cibo che le veniva portato e tre giorni dopo il suo arrivo fu condotta nella stanza del medico, quello che vide era abbastanza per terrorizzare anche i più coraggiosi. Al centro della stanza c'era una tozza sedia adagiata sul lenzuolo di cotone. Addosso alla parete, pronta all'azione, c'erano quattro secondine e rappresenta anche un medico tirocinante. Il dottore disse, ascoltate quello che ho da dirvi, ho avuto ordine dai miei superiori di non farvi rilasciare neanche per motivi di salute. Se vi asterretta ancora dal cibo, dovrò prendere altre misure per costringervi a prenderlo. La signora Leite replicò che lo rifiutava ancora e poi disse che sapeva di non poter essere legalmente alimentata a forza perché non si poteva eseguire un'operazione del genere senza il consenso della paziente sana di mente. Il dottore ripetè che aveva ricevuto degli ordini e che li avrebbe eseguiti. Alcune carceriere si scagliarono contro la signora Lee e mobilizzarono e inclinarono la sua sede all'indietro. Fu colta talmente di sorpresa che in quella circostanza non riuscì a opporre resistenza. Le fecero inghiottire un po' di cibo da una tazza. Più tardi i due medici e le secondine entrarono nella sua cella, gettarono la signora Lee sul letto e la tenero bloccata. Davanti al suo sguardo terrorizzato i dottori tirarono fuori un tubo di gomma, lungo quasi due metri, e uno di loro cominciò a ficcarglielo su per le narici. Il dolore era talmente atroce che iniziò a strillare. Tre delle secondine scoppiarono in lacrime e il terocinante pregò all'altro dottore di desistere. Avendo avuto ordini precisi dal governo, il medico andò avanti e il tubo fu spinto fin giù nello stomaco. Uno dei medici era in piedi su una sedia e reggeva il tubo versando dall'alto del cibo liquido, attraverso un imbuto, soffocando quasi la povera vittima. «I timpani delle orecchie!» raccontò lei in seguito. «Sembravano esplodermi. Sentivo il dolore fino alle ossa del torace. Quando il tubo alla fine venne estratto, era come se mi avessero strappato via anche il naso e la gola». Pressoché svenuta, la signora lì fu portata nella cella punitiva e lasciata lì sul letto di tavole. Il calvario si ripetè giorno dopo giorno. Le altre detenute subirono trattamenti simili. Il movimento militante è raggiunto a questo punto quando nell'ottobre 1909 mi recai per la prima volta negli Stati Uniti. Non scorderò mai l'eccitazione dello sbarco, il primo incontro con il giornalista americano, un'esperienza temuta da tutti gli europei. A dire il vero, i primi giorni sembrarono tutti uno sconcertante turbinio di giornalisti e ricevimenti, fino alla mia prima conferenza alla Carnegie Hall del 29 ottobre. La grande sala era completamente piena e un'enorme folla di gente era siepata nelle strade per vari isolati. Con me sul palco c'erano diverse donne che avevo conosciuto in Europa e a presiedere c'era una vecchia amica, la signora Stanton Blatch, che da sposata aveva vissuto in Inghilterra. La grande folla che avevo davanti tuttavia era composta da stranieri e non potevo sapere come avrebbero reagito alla mia storia. Quando mi alzai per parlare calò un profondo silenzio, ma alle mie prime parole «Io sono quella che voi chiamate un hooligan, una teppista», uno scoppio di risate calorose e solidali fece tremare le pareti. A quel punto comprese di aver trovato degli amici in America. E ciò fu dimostrato da tutto il resto del mio tour. A Boston il comitato mi accolse con una grande automobile grigia decorata con i colori della WUSPU e quella sera, al Tremont Temple, parlai davanti a 2.500 persone, tutte molto generose e reattive. A Baltimore, professori e studenti della John Hopkins University fecero da servizio d'ordine all'Assemblea. «Mi trovai benissimo al Brian Moore College L. Rosemary Hall, uno splendido istituto femminile nel Connecticut. A Chicago conobbi, tra tante persone di valore, la signorina Jane Adams e la signora Ella Flaggia, sovrintendente scolastico. Serberò sempre il ricordo della mia visita in Canada, in particolare a Toronto, dove il sindaco in alto uniforme mi dè del benvenuto. Incontrai anche il venerabile Goldwyn Smith, che sarebbe morto da lì a poco. Trovai ovunque americani cortesi ed entusiasti e posso dire solo bene della meravigliosa ospitalità che mi riservarono. Le donne che incontrai dimostravano tutte un grande interesse per lo stato sociale. Il lavoro dei circoli femminili mi colpì assai positivamente e pensai a queste associazioni come una base perfetta per un movimento soffragista. Ma al tempo, il 1909, il movimento soffragista negli Stati Uniti versava in un curioso stato di quiete. Molte donne con cui entrai in contatto sembravano pensare solo che avrebbero dovuto avere il diritto di voto, ma in poche lo sentivano effettivamente come un bisogno urgente. Alcune, è vero, stavano iniziando a mettere in connessione il voto con le riforme per cui si stavano adoperando con tanto altruismo e tanta devozione. Fu quando parlai con le donne più giovani che mi resi conto che in America, sotto la superficie, fremeva un forte attivismo soffragista. Queste giovani, lasciate le loro splendide università per cominciare a vivere, stavano comprendendo in maniera assai intelligente che avevano il bisogno e l'obbligo di assicurarsi uno status politico. Il primo dicembre salpai per l'Inghilterra con la Mauretania e quando giunsi a destinazione appresi che la pena carceraria che pendeva su di me, in attesa che il caso delle petizioni venisse riesaminato, era stata condonata, poiché un ignoto amico aveva pagato la cauzione mentre mi trovavo in mezzo all'oceano. Il 1910 iniziò con un'elezione generale, anticipata per via della bocciatura da parte della Camera dei Lord del bilancio pubblico del 1909, a opera di Lloyd George. Il Partito Liberale girò per il paese promettendo nuove tasse sui valori fondiari. Promise anche l'abolizione del potere di veto dei Lord, l'home rule irlandese, la delegittimazione della chiesa del Galles e altre riforme. Il suffragio femminile non fu promesso direttamente, ma il signor Esquit si impegnò, se avesse mantenuto alla carica, a presentare un progetto di riforma elettorale che poteva essere emendato per includere il suffragio femminile. Gli unionisti, sotto la leadership di Belfort, avevano in programma una riforma delle tariffe doganali e non fecero neppure una vaga promessa di una possibile misura a favore del suffragio femminile. Ma noi, come al solito, andammo in tutte le circoscrizioni a fare opposizione al Partito Liberale. Non ci fidavamo della promessa di Esquit e, oltretutto, se avessimo fallito nell'opporci al partito che era al potere, avremmo indotto Esquit e Belfort a fare un'intesa che non si sarebbe affatto occupata del suffragio, con il rischio di escludere per sempre la nostra causa dell'esercizio politico. Eravamo per certi versi nella stessa posizione dei nazionalisti irlandesi del 1885, quando né i leader liberali né quelli conservatori volevano includere l'home rule nei loro programmi. Gli irlandesi fecero opposizione al Partito Liberale, con risultato che il governo liberale fu rieletto con una maggioranza talmente risicata che dipendeva dal voto degli irlandesi in Parlamento per rimanere in carica. Per questo motivo fu obbligato a presentare l'home rule bill. Le altre associazioni suffragiste e le donne liberali ci pregarono di non fare opposizione al Partito Liberale per queste elezioni. Ci supplicarono di rinunciare alla nostra rivendicazione solo per questa volta, vista l'importanza della battaglia tra la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord in materia di bilancio. Replicammo che la medesima preghiera c'era stata rivolta nel 1906, quando ci implorarono di rinunciare alle nostre rivendicazioni solo per questa volta, a proposito della questione fiscale. Rispondemmo che per le donne la questione politica era soltanto una, quella della loro emancipazione. La disputa tra la Camera dei Lord e quella dei Comuni era assai meno vitale della richiesta della gente, rappresentata in questo caso dalle donne, a vedersi riconosciuto il diritto di cittadinanza. Dal nostro punto di vista nessuna delle due Camere del Parlamento poteva dirsi rappresentativa finché le donne non avessero avuto voce nello scegliere i legislatori e influenzare la produzione della legge. Facciamo opposizione ai candidati liberali in 40 circoscrizioni e in quasi tutte la maggioranza liberale fu ridotta e non meno di 18 seggi furono strappati i candidati liberali. Fu davvero una tornata elettorale terribile per il governo. Il signor Esquit viaggiò da una circoscrizione all'altra accompagnato dai suoi guardaspalle e buttafuori ufficiali, il cui solo compito era di espellere le donne, oltre agli uomini, che interrompevano le sue riunioni facendo domande sulla questione del voto alle donne. Le sale dove teneva i suoi discorsi avevano le finestre sbarrate con le assi di legno o i vetri coperti da fitte reti metalliche. Ogni via d'accesso alle rispettive sale era interdetta, il traffico sospeso e grandi forze di polizia facevano la guardia. Le precauzioni più eccezionali venivano prese per proteggere il primo ministro. In una città andò alla sua riunione energicamente escoltato e compiendo un percorso segreto che conduceva all'ingresso posteriore della sala, passando per cespugli di uva spina e campi di cavolfiori. Dopo la riunione scappò dalla stessa porta e fu guidato in pompa magna lungo un sentiero cosparso di segatura per eliminare le sue tracce, fino alla vettura nascosta dentro cui rimase acquattato finché la folla non si fu dispersa. Gli altri ministri erano ricorsi a precauzioni simili. Vivevano costantemente sotto scorta. Le loro riunioni erano guardate a vista dalla polizia in un modo che non aveva precedenti. Ovviamente nessuna donna era messa alle loro riunioni, anche se poi entrarono lo stesso. Due donne si nascosero per 25 ore tra le travi di una sala di Lowe's, dove si sarebbe tenuto i discorsi di Lloyd George. Furono arrestate, ma non prima di aver messo in scena la loro dimostrazione di protesta. Altri due si nascosero per 22 ore sotto un palco, solo per porre una domanda al primo ministro. Potrei citare altri esempi all'infinito. Avevamo stampato un bellissimo manifesto che mostrava la pratica dell'alimentazione forzata e lo esponemmo dovunque su dei cartelloni. Diciamo agli elettori che il Partito Liberale, l'amico della gente, aveva mandato in prigione 450 donne per aver commesso il crimine di reclamare il diritto di voto. Torturavano le donne a Holloway. Era un argomento forte e lo utilizzammo. Il Partito Liberale ritornò al potere, ma la sua maggioranza in tutte le sezioni della Camera dei Comuni si era sfaldata. La sopravvivenza del governo Esquit adesso dipendeva dai voti del Partito Laborista e dei nazionalisti irlandesi.